Ciao, questo è il risotto che sono andata a creare oggi, ora vi spiego come ho fatto così lo potete ricreare. Ovviamente io sono partita in questo caso per fare il mio risotto ai funghi con dei funghi secchi, quindi all'inizio ho dovuto reidratare i funghi, infatti in una tazza ho messo 350 ml di acqua e l'ho scaldata per 2 minuti alla massima potenza ovvero 900 watt. Sono andata a travasare la mia acqua contenuta nella tazza dentro la ciotola e ho messo all'interno della ciotola l'equivalente di metà di 70 grammi di funghi secchi ovvero 35 e li ho lasciati ad ammollare in acqua per 30 minuti o un poco più. Infatti si sono reidratati, questi hanno assorbito e poi ci vediamo con la cottura. Intanto ho preparato anche tutti gli altri ingredienti. Ho raccolto e tritato un mazzetto di prezzemolo, questo è il prezzemolo che ho coltivato io dentro al vaso, ci sono anche tutti gli altri video dove ne parlo. Ho preso una cipolla piccola, questa che state vedendo l'ho tritata, perché questa ci servirà per fare il soffritto. Infatti adesso ho finito di tritarla utilizzando il coltello. Cominciamo la ricetta vera e propria con il mettere l'olio di oliva in una pentola per fare il soffritto. Dopo aver messo l'olio di oliva ovviamente vado a mettere dentro la cipolla. Comincio col versare in un bicchiere il vino bianco che userò per sfumare il riso. Vedete non ce ne vuole molto, questa invece sarà l'acqua che andrò ad aggiungere durante la cottura del riso per cuocerlo. Mentre sto soffritto per non far bruciare la cipolla vado con un cucchiaio di legno, anche per non rigare la pentola ulteriormente, e mescolo. Questi invece sono i funghi che andrò ad aggiungere, che ho reidratato qui. Quindi vado ad eliminare l'acqua in eccesso e li sciacquo sotto l'acqua corrente per eliminare i residui di terra che potrebbero esserci. Fatto ciò vado ad unire il tutto con il mio soffritto di cipolla che ho eseguito prima e poi verso il riso all'interno e posto per alcuni minuti. Ora è l'aggiunta dei liquidi. Il primo liquido che andrà ad aggiungere per non bruciare il tutto sarà il vino bianco. Dopo aver aggiunto il vino bianco vado a continuare a mescolare il riso durante tutta la sua cottura e aggiusto anche di sale. Non ne metto tanto perché poi andrò ad aggiungere anche i formaggi. Questa è l'acqua che andrò ad aggiungere al riso durante la cottura. La mia acqua è fredda perché io andrò ad aggiungerla fredda a temperatura ambiente. C'è chi preferisce aggiungerla calda perché motiva la cosa come un quando butti dentro l'acqua dentro al riso che sta cuocendo però di temperatura più fredda blocca la cottura del riso. Io non noto questa differenza quindi non ho mai fatto così. Io la metto a freddo, non sento il bisogno di scaldarla. Ecco sto mescolando ancora infatti fare il riso è un continuo mescolare. Poi al mio riso vado ad aggiungere 20 grammi di burro e poi mescolo. Una volta mescolato vado ad aggiungere anche il formaggio grattugiato che aggiungo 4 cucchiaini scarsi. Poi aggiungo la sottiletta, mescolo e poi aggiungo le spezie. Come spezie ci metto l'aglio. Se volete potete aggiungere un altro fungo ovvero il tartufo, io preferisco l'aglio in questo momento. E poi aggiungo anche il pepe, mescolo il tutto. Aggiungo il prezzemolo, mescolo nuovamente ed è pronto, servito. Potete assaggiarlo, è buonissimo, ve lo garantisco. Ciao alla prossima e al prossimo video dove cucino altri funghi! Ciao alla prossima e al prossimo video!